Buongiorno e benvenuti in questa sede che è davvero, direi, di straordinaria bellezza. Basta guardarsi intorno, è uno dei templi dell'arte veneziana e credo che è importante per la città, non solo per questi capolavori che contiene, ma anche per la storia che rappresenta, perché è la sede della confraternita di San Rocco, una istituzione culturale e religiosa e benefica che risale sin dalla seconda metà del 1400, quindi voglio dire, siamo davvero fortunati, secondo me, di aver avuto una sede così bella, così prestigiosa. Allora, oggi ci troviamo qui per parlare del cambiamento climatico e soprattutto del documento che è stato predisposto, che è stato adottato dall'Ordine e dal Consiglio degli Ingegneri di Venezia. Abbiamo qui il Presidente dell'Ordine, Mariano Carraro, che ci saluta e ci introduce, per cui gli cedo immediatamente la parola. Come preferisci. Bene, allora, benvenuti a tutti in questo pomeriggio di fine luglio, con un clima, devo dire, tutto sommato accettabile, perché in genere a luglio può essere molto peggio, ma direi che siamo stati un po' graziati, ma valeva la pena, vale la pena di realizzare questo convegno di cui entreremo nel merito a brevissimo, in questa sede che è prestigiosissima, scuola di San Rocco, che è un po' definita la Cappella Sistina del Tintoretto a Venezia, e avrete sicuramente già osservato, ma vi invito a farlo anche dopo, le tele che ci sono alle pareti e sul soffitto. Ci sarebbe anche la sala dell'albergo, qui in fondo, non so se sia... Non so se è aperta, è aperta, ecco, c'è una tela del crocifisso che è meravigliosa, ma insomma qui è tutto molto bello e interessante per noi. Avete visto che ci sono dei colleghi che fanno parte della cancelleria della scuola, ma non c'è da stupirsene perché insomma il campo dell'ingegneria è vastissimo e quindi è evidente che anche nella gestione di queste strutture l'ingegnere c'è e fa la sua parte. Siamo venuti qua anche perché qui siamo ormai in un periodo che tutti sperano essere post-Covid, non so se sia proprio così, ma quantomeno ce l'auguriamo, ma siamo venuti qui appunto perché in questa scuola queste tele sono state dipinte del Tintoretto, perdonatemi, due parole, due di storia, esco un po' dal mio ruolo di ingegnere, sono state dipinte attorno al 1570, in particolare ce n'è una, quella tela che è la prima sul soffitto e che è Mosef che fa scaturire l'acqua dalla roccia, che un po' l'abbiamo presa a emblema di questo convegno, la presenza dell'acqua, il dissetare gli ebrei nel deserto ed è un po' un ruolo che svolgiamo anche noi ingegneri nel momento in cui ci occupiamo dell'acqua, degli acquedotti. È una tela di 5,50 metri per 5,20 metri che Tintoretto ha dipinto nel 1577, praticamente l'anno dopo in cui Venezia fu colpita dalla più terribile epidemia di peste dopo quella del 1348, negli anni 1575-77. Vi morirono 50.000 persone, pari a circa un terzo della popolazione, che quella volta le autorità non si comportarono benissimo all'inizio, nel senso che hanno cercato di sminuire il problema per naturalmente conservare, per tener conto degli aspetti economici, commerci, Venezia. Insomma l'economia e il commercio erano importantissimi, ma lo vediamo, vediamo che i temi sono gli stessi anche ai giorni nostri. Una peste che appunto ha decimato la città, tra l'altro nel 1576, quindi l'anno prima della produzione di quella tela morì, di peste anche Tiziano Veccellio. E nello stesso anno il Senato decretò la costruzione della chiesa del Redentore. Sabato scorso c'è stato, sia pure in tono minore, perché non ci sono stati i fuochi, chi è veneziano o chi anche lo è un po' meno sa che la festa del Redentore qui a Venezia è la più bella, la più importante, se possiamo stabilire una qualche graduatoria. Quindi è una festa che si ripete dal 1577. Fu costruito il ponte di barche, sapete che dalle zattere viene realizzato un ponte di barche che le collega con la chiesa del Redentore che si trova alla Giudecca. Ponti, ingegneri, ci siamo, insomma, perfettamente presenti anche in quell'epoca. E insomma, ecco perché abbiamo deciso, congiuntamente, abbiamo chiesto agli amici della Cancelleria di San Rocco e all'architetto Posocco, che ringrazio della sua disponibilità, di poter svolgere qui questa assemblea e questo convegno. Convegno, e quindi adesso entro nel merito, che è non l'esito ma l'illustrazione di un primo, primissimo passo che è stato fatto all'interno dell'Ordine per quanto riguarda il tema dei cambiamenti climatici. È un tema di grande attualità con il quale tutti ci misuriamo volenti o nolenti, ci dobbiamo misurare volenti o nolenti. A Venezia siamo in prima fila, non c'è dubbio, perché, insomma, il tema delle acque alte è strettamente connesso con i cambiamenti climatici. Abbiamo costituito, oltre alla Commissione sui cambiamenti climatici, anche una commissione sulle acque alte e sul MOSE, appunto perché sono temi che ci riguardano direttamente, e quindi ci è parso giusto come Consiglio dell'Ordine di Venezia di interessarci e di addentrarci in questi temi al di fuori delle chiacchiere da bar, perché poi spesso ci sono molti che parlano e invece bisogna sapere di che cosa si sta parlando e per sapere di cosa si sta parlando bisogna conoscere, adentrarsi in questi temi, appunto, tecnicamente. Noi questo siamo abituati a fare. Chiudo con i ringraziamenti a tutti voi e a chi ci ospita e alla Commissione sui cambiamenti climatici che è coordinata dall'ingegner Boato per il lavoro che è stato fatto, ma ci sarà non altrettanto molto, molto più lavoro da fare ancora in futuro, quindi ripeto, questo è solo un primo passo. La buona notizia, se vogliamo, è quella che compare in questi giorni su alcuni organi di stampa, dove si dice che le rinnovabili battono i combustibili fossili. è la prima volta in Europa, grazie certamente o a causa anche certamente della riduzione che c'è stata nella produzione e quindi della minore esigenza di energia elettrica a livello mondiale e quindi anche a livello europeo, evidentemente, però per la prima volta l'energia, in questi primi sei mesi, l'energia elettrica prodotta, le energie prodotte da fonti rinnovabili hanno superato l'energia prodotta da combustibili fossili. È un argomento del quale si parlerà diffusamente nell'incontro di oggi e quindi io non dico altro e ripasso la parola a Sandro Boato per la prosecuzione. Grazie. Grazie Ingegner Carraro. Allora, entriamo nel vivo dell'incontro di oggi che è appunto finalizzato a illustrare questo documento che è stato adottato da Ordine e Consiglio degli Ingegneri. Il tema dei campamenti climatici direi che è abbastanza conosciuto, se ne parla abbastanza, diciamo che ha avuto un momento di grande attualità con il movimento di Greta Thunberg che ha davvero attirato l'attenzione di molta parte della popolazione su questo tema. Attenzione che però è purtroppo calata in quest'anno a causa dell'emergenza coronavirus per cui anche la stampa e i media hanno dedicato meno attenzione a questo tema. Scusate, non ho portato i saluti di Maurizio Pozzato, il presidente del Collegio degli Ingegneri che era citato nell'Ordine del giorno e doveva essere qui con noi. Purtroppo non è potuto venire per cui ricordo che la commissione sul Climate Change è mista, Ordine e Collegio e anche il Collegio come l'Ordine ha poi alla fine adottato il documento. Pozzato vi porta i suoi saluti, ci augura un buon lavoro e sicuramente continuerà a seguirci nel proseguo. Allora, dicevo del tema del cambiamento climatico. Se ne parla, però io ho l'impressione che se ne parli come di qualche cosa che ci riguarda ma che potrà essere affrontato con calma, insomma, con magari domani o dopo domani e invece purtroppo, come vedremo negli interventi che seguiranno, è un problema urgente che va affrontato subito se non vogliamo che ci siano delle conseguenze molto pesanti per la vita di tutti noi. Allora, il convegno è strutturato in quattro interventi. Aprirà l'ingegnere Marino Mazzon con l'illustrazione del documento a seguire poi tre interventi di tre docenti universitari specifici su alcuni temi. Il primo è il discorso economico che l'impostazione economica che stiamo vivendo, alla quale siamo abituati dovrà adeguarsi alle attività che verranno svolte per l'adeguamento al clima. E il professor Stefano Battistong dell'Università di Venezia che però non è qui ma è a Zurigo quindi ci parlerà da remoto ci illustrerà come. A seguire un argomento che riguarda più da vicino il nostro territorio ce ne parlerà il professor Marco Marani che invece è qui presente e riguarda la gestione del sistema delle acque nel senso che uno dei problemi più importanti e delle conseguenze più importanti dei cambiamenti climatici dell'aumento delle temperature è la gestione delle acque sia il rinanziamento dei mari ma anche i fenomeni cosiddetti estremi e quindi la difesa del suolo e quindi tutte queste attività che dobbiamo prepararci ad affrontare in modo serio e qui gli ingegneri devo dire che possono benissimo fare la loro parte perché sono i più titolati e infine si parlerà del tema dell'energia la transizione energetica lo citava prima Mariano Carraro che già molti passi sono stati fatti nel senso che non sono più solo le fonti fossili combustibili fossili a produrre l'energia ma ci sono anche fonti rinnovabili però bisogna fare ancora molto nel senso che secondo quello che dice l'IPCC nel 2050 tutte le fonti di CO2 dovrebbero essere eliminate per fare questo bisogna che tutte le fonti fossili vengano eliminate e quindi c'è ancora molto da fare per la trasformazione e la transizione energetica di questo ci parlerà il professor Fabio Vignucolo dell'Università di Padova Grazie 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 Grazie